Gladian, Jack il pirata, tutto è pronto partiti Kendrick non brillantissimo in corda sono quelli al centro pista in leggero vantaggio Gladian superato poi da Bacon che prova a scendere in corda con Joit Dewey all'interno, poi Ramon Royale e Jack il pirata vediamo di riassumere le posizioni che ha fatto partenza anche Allman ma è Bacon in vantaggio accompagnato da Gladian poi Joit Dewey in corda con di fuori Allman tra i due galoppa il bianco rosso che è Jack il pirata poi dietro a questi a largo Lunaris e all'interno Kendrick vediamo dove sono, muove largo Adler in terza e quarta corsia seguito da Lunaris e da Tuselei Bacon e Gladian alle prese in terza corsia a metà curva c'è Allman in quarta Adler questi sono anche in diagonale dietro a questi Joit Dewey, Jack il pirata, Lunaris e a largo Tuselei di dentro Kendrick allungano quelli di dentro Bacon e Gladian hanno all'esterno Allman e Adler rincorsi da Jack il pirata e da Lunaris da Kendrick e da Joit Dewey Bacon prova la fuga da Gladian che muove in anticipo lungo su Jack il pirata Joit Dewey con Gladian che accreditisce Bacon Gladian contro Bacon poi Joit Dewey, Jack il pirata a largo prova Lunaris ma davanti bisogna sempre andare a prendere Bacon all'interno e Gladian di fuori poi Joit Dewey, Lunaris che si avvicina all'esterno Bacon contro Gladian che passa a Gladian in vantaggio su Bacon e Lunaris nel finale Gladian Gladian 14.04 welcome back Christian San Rossore e Gladian batte Bacon alla fine per lo zio Angelo De Pau il 3 Gladian, il 9 Bacon è da vedere per il terzo ma potrebbe avere ragione la regia a indicare il 10 di Lunaris 3-9 e poi Lunaris, Jack il pirata e Allman vicini ma dovrebbe essere 3-9-10-1-6 questa l'impressione televisiva vittoria di Gladian un bel prendere di Mura 14 non è cosa da tutti i giorni è tutto un bel prendere di Mura 14 rientra Bacon che le ha provate di tutte per vincere la sua prima corsa in carriera mentre stiamo rivedendo la ripresa frontale dei 200 metri conclusivi ma niente ha potuto il bravo Alessandro Fiori contro un Christian De Muro oggi scatenato con Gladian eccolo qua Christian De Muro che torna a San Rossore lo fa nella maniera a lui consueta un po' in tutto il mondo vero vero